Bentornati, 89esima puntata dalle colonne d'Ercole. Allora oggi vi racconto di cosa è successo ieri, forse l'avete letto su Repubblica e anche su altri giornali, Franco Piersanti ha rinunciato alla sua candidatura al David per la composizione della colonna sonora del Sol dell'Avvenire. Allora, l'ho fatto in polemica con l'Accademia del Cinema e con una serie di cose che ora vi racconterò e di situazioni, di dinamiche di cui vi parlerò adesso nel corso del video. È un gesto molto forte, molto apprezzato da tutti i colleghi, facciamo tra l'altro tutti parte della stessa associazione di compositori, cioè ACMF, però è chiaro che se una polemica con il David e quindi con l'Accademia la facesse il sottoscritto che non ha mai vinto un David, si sprecherebbe i commenti a dire ecco, dice così perché è invidioso, perché lui non l'ha mai vinto e allora se la prende, la volpe e l'uva e tutte queste belle storie. Per fortuna, siccome invece la fa un compositore che l'ha vinto tante volte, credo l'abbia vinto tre volte più una quantità, una lunga serie di candidature, e per fortuna, insomma, come dire, un compositore di quell'età e di quello spessore, è evidente che la cosa ha un peso specifico diverso che se la facesse un altro compositore, come dire, con le spalle meno larghe. Allora, Piazzanti è un compositore, possiamo dire, all'antica, nel senso di quelli che scrive lui, orchestra lui, lui non usa particolarmente l'elettronica, credo che sia abbastanza lontano da quello che sta facendo adesso l'intelligenza artificiale, insomma, è quindi un compositore classico, stile Morricone, per capirci. E quindi capisco perfettamente, e condivido soprattutto con lui, il disagio che ha da un lato per, come dire, per la direzione che sta prendendo il nostro lavoro, in particolare con l'avvento dell'intelligenza artificiale, e sto preparando un video che tra pochi giorni verrà pubblicato proprio su questo argomento. In particolare, però, la sua polemica, assolutamente condivisa e condivisibile, ve lo ripeto, da parte di tutti i colleghi, è riferita alla funzione del compositore all'interno dell'Accademia, e soprattutto ai criteri con cui vengono formate le cinquine dei migliori compositori. Allora, cominciamo a dire che, che cosa non funziona nel sistema di oggi? Innanzitutto, il compositore, legalmente, è uno degli autori del film, però questa cosa dall'Accademia sembra non sia tenuta in alcuna considerazione, tanto è vero che i compositori non hanno una vera e, come dire, efficace rappresentanza all'interno dell'Accademia e del Cinema. Ce le hanno i registi, ce le hanno altre figure professionali, che vengono ritenute evidentemente più importanti del compositore, e appunto si tende a dimenticare che il compositore legalmente è uno degli autori del film. Addirittura, in certi casi, la composizione della colonna sonora viene derubricata a premio tecnico. Cosa vuol dire premio tecnico? Premio tecnico è le luci, sono il trucco e il parrucco, sono gli effetti speciali, insomma, tutta una serie di attività fondamentali alla buona riuscita del film, che però vengono percepite come tecniche e non come artistiche. Quindi se l'attore è un artista, il regista è un artista, lo sceneggiatore è un artista, e il compositore è un tecnico, non chiedetemi perché, perché questa cosa non ha nessun senso. Però in tanti premi la figura stessa del compositore viene derubricata a figura tecnica. Allora, cominciamo a capire come funzionano le votazioni ai Davide Donatello. I Davide Donatello sono il più importante premio cinematografico italiano, è l'equivalente degli Oscar. Allora, per partecipare al Davide Donatello è relativamente semplice, bisogna aver fatto un film in un arco temporale preciso, questo film deve avere alcune caratteristiche minime, 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 come l'essere uscito in sala, ma qui dobbiamo capirci cosa significa uscire in sala, perché uscire in sala può essere anche uscito in una sola sala per due giorni, in un fine settimana, anche qual è un'uscita in sala? Ecco, però anche se quel film poi l'hanno visto 26 o 27 persone, insomma. Ecco, però insomma, nelle caratteristiche richieste ci sono una serie di parametri richiesti, tra cui questi qua, che però danno possibilità a un enorme numero di film di iscriversi al Davide. Cosa legittima, giusta dal punto di vista artistico, perché insomma tante piccole produzioni fanno degli sforzi enormi per poter produrre un film, e poi non hanno magari una grande distribuzione, il che non vuol dire che quel prodotto che hanno fatto non sia valido. Ecco, quindi in questo senso è giusto che tutti abbiano la possibilità di partecipare ai Davide. Il problema qual è? Che poi si crea ogni anno un numero di film che va dai 120, 130, 150, in certi casi 180 film. E voi capite che non è realistico che un giurato si guardi 180 film. Non è realistico, infatti regolarmente nessuno lo fa. Un giurato, non diversamente, come abbiamo detto quando ho parlato degli Oscar e delle dinamiche degli Oscar, trovate se volete il, alla fine del video il link, se guarda 10 film ma voglio sparare una cifrone, 20 film sono già tanti, non ne guarderà mai 180, per cui succede il fenomeno dei dati a pioggia, cioè per cui mi è piaciuto il film La Cortellesi, bene, bello il film La Cortellesi, voto, siccome devo votare come giurato, voto in tutte le categorie, per cui mi è piaciuto quel film e quindi quel film avrà miglior trucco, miglior effetti, miglior fotografia, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, a pioggia, perché? Non perché quel film abbia sicuramente, sparo, il miglior attore non protagonista di tutti i film in gara, ma banalmente perché quello è uno dei pochi che ho visto e quindi anche per, come dire, per non prendermi la briga di guardare troppi film, mi è piaciuto quello, voto a pioggia su quello. E tralasciamo naturalmente il fatto che, ma questo forse fa parte proprio delle, così, della natura di questo tipo di premi, ci sono delle correnti, ci sono, ma questo non è una cosa di cui scandalizzarsi, è chiaro come dire che una casa di produzione che ha investito tanto su un film e che ha tante persone che lavorano per lei come giuratile David, darà delle indicazioni di voto, dirà, mi raccomando, sostenete questo film che abbiamo prodotto noi, anche se magari la casa di produzione concorrente ha fatto un film oggettivamente più bello della tua. Però capite che sono dinamiche un po' delicate. Allora, chi vota fondamentalmente ai David? Votano tutti i membri dell'Accademia, e questo è giusto, più tutti quelli che nella storia hanno avuto almeno una candidatura, non una vittoria, una candidatura. Perché nel momento in cui si viene, si riceve una candidatura, questa cosa, se già non sei membro dell'Accademia, ti fa diventare un giurato dell'Accademia. Poi questa qualifica si può anche perdere se non si esercita il dito di voto, insomma, adesso, questo a voi non interessa, ma insomma, diciamo, vi basti sapere che i giurati al David sono circa 1600 indicativamente, e sono quindi i membri dell'Accademia più tutti quelli che negli anni hanno avuto una candidatura. Però anche qui c'è una piccola struttura, perché poi c'è anche una categoria di quella che viene chiamata cultura e società, quindi una serie di giornalisti, critici, a volte distributori, a volte produttori che non hanno avuto però necessariamente delle candidature, che vengono nominati dall'Accademia e che quindi a tutti gli effetti diventano dei votanti, dei giurati. Però capite che questa cosa, è chiaro che se in un contenitore io ho la possibilità di inserire a mia discrezione delle figure, e per chi io le ritengo figure meritevoli di essere parte dei giurati, capite che questa cosa può spostare anche un po' gli equilibri. Capite che se io propongo Tizio, Caio e Sempronio e li faccio diventare giurati, anche se di loro non avevano le caratteristiche per essere giurati, adesso non voglio dire che Tizio, Caio e Sempronio obbediranno alle mie indicazioni di voto, però capite come dire che potrebbero, come dire, essere sospettati di non essere del tutto imparziali e oggettivi. Detto questo, nella cinquina di quest'anno ci sono quattro compositori più un gruppo in subsonica e questa è fondamentalmente la ragione principale per cui Pier Santi ha deciso di fare questa protesta abbastanza eclatante, cioè appunto di ritirarsi della candidatura. Perché lui, cosa dice fondamentalmente? Non c'è confronto, non perché uno sia meglio o sia peggio, ma perché oggettivamente è diverso il lavoro di chi scrive una colonna sonora, soprattutto come la fa Pier Santi e non come la fa qualche compositore oggi con degli stratagemmi e delle scorciatoie. Quindi non c'è confronto tra chi scrive una colonna sonora e chi scrive delle canzoni per un film. E quindi, secondo lui, ed è tutt'altro che peregrina come posizione, non è giusto che un film che, la cui colonna sonora è fatta principalmente di canzoni, sia candidabile nella stessa categoria in cui la colonna sonora è fatta e scritta da un unico compositore che ha scritto la colonna sonora per quel film e non delle canzoni che sono state messe sul film, anche se canzoni originali. Per cui, Pier Santi, non dice, questi qua non devono far parte, non devono esserci, dice, dovrebbe esserci una categoria differente. Una per i compositori della musica originale e una fondamentalmente per le canzoni. C'è già la categoria miglior canzone, che però è a parte, non so parlarvene oggi perché non è questo il focus di questo video, però capite bene che è una lotta impari. Cioè, io, compositore, non posso competere con i subsonica, che hanno fatto un lavoro diverso sicuramente da quello che ho fatto io, che hanno scritto uno o più canzoni in 4 o 5 e io sono da solo, ma la cosa più grave è che hanno ovviamente una notorietà, un seguito, e quindi potenzialmente anche una quantità di persone che li voterà solo perché sono più famosi di me e questa cosa ovviamente rende la competizione impari e non giusta. Per cui, giustissimo che i subsonici, nessuno dice che i subsonici non possano partecipare, però dovrebbe esserci una categoria a parte. Devo fare i compositori, i gruppi che scrivono delle canzoni originali per il film, è giusto che siano in una categoria come già c'è, le canzoni originali per il film. I film che hanno invece una colonna sonora fatta principalmente da canzoni, in molti casi non scritte originalmente per il film, devono avere una categoria a parte, altrimenti mettiamo sul ring uno che fa il pugilato e uno che fa il lancio del giavellotto, cioè capite che sono due sport diversi. Questa non è l'unica struttura che c'è all'interno del meccanismo dei David. Recentemente leggevo una polemica giusta sul fatto che, per esempio, Paola Cortellesi sia stata candidata come miglior regista esordiente. È vero che è il suo primo film, quindi formalmente è un regista esordiente, però il concetto che dovrebbe essere di regista esordiente è un regista che parte, diciamo così, dal basso, magari in una piccola produzione. Quindi non è ovviamente paragonabile l'esordio che può aver fatto Paola Cortellesi senza nulla togliere il suo film che io ho guardato e che mi è piaciuto tantissimo, però la produzione e i mezzi che ha avuto lei rispetto a una piccola produzione e a un regista giovane che si affaccia veramente per la prima volta alla regia. E come dire, anche lì confrontiamo due prodotti che hanno avuto due budget mostruosamente diversi, quindi dei cast diversi, una distribuzione diversa, una pubblicità diversa, un marketing diverso, insomma, mettiamo a confronto due cose che non andrebbero confrontate. La Cortellesi, ripeto, il cui film mi è piaciuto tantissimo, dovrebbe essere candidata come miglior regia, non come miglior regista esordiente, anche se è un esordiente. Altrimenti cosa succede? Che come quest'anno 4 su 5 registi esordienti sono in realtà già attori di chiara fama che si sono dati alla regia e che secondo me tolgono spazio a 4 giovani registi che magari sgomitando hanno dovuto lottare per riuscire a fare una loro prima regia. Detto questo, ogni meccanismo è perfettibile. L'Accademia, come anche gli Oscar, hanno preso delle cantonate clamorose in anni in cui non hanno votato film che sono poi passati alla storia e hanno vinto o sono andati in candidatura dei film che sono scomparsi completamente dal radar. Queste cose succedono e per amore del cielo, nessuno ha pretesa che né l'Accademia in America né l'Accademia in Italia abbia sempre ragione e non possa sbagliare. Per amore del cielo, gli errori si fanno. Però quello che sarebbe importante è che l'Accademia ascoltasse le categorie di artisti per fare in modo che il voto possa essere più strutturato. Cioè, che senso ha che per la colonna sonora voti uno scenografo? Secondo me nessuno. È vero che quello che c'è sotto è giusto che tutti votino per tutte le categorie di modo che il voto sia veramente plebiscitario. Però io, musicista che voto per un direttore della fotografia, che competenza ho in fotografia per giudicare se Tizio ha fatto una cosa migliore di Caio? Non essendo un tecnico non potrò dare un giudizio veramente approfondito. Per la stessa ragione votano per le musiche gente che di musica non ne sa nulla. E questa cosa, a mio parere, è una struttura del sistema. Che, ripeto, sebbene la razza sia dare un voto plebiscitario, poi alla fine in realtà si risolve che spesso e volentieri vincono dei prodotti non meritevoli. E ve ne dico un'altra prima di andare in chiusura. Spesso e volentieri si creano, non è successo in David, ma è successo in un altro importante premio cinematografico, che si candidino delle colonna sonore che non esistono. Mi ricordo che il film di Sorrentino era successo in un famoso premio cinematografico a causa dei voti a Pioggia, perché il film di Sorrentino era piaciuto tantissimo, bellissimo. Quindi voto a Pioggia, miglior regista, miglior film, miglior attore, miglior attrice, miglior colonna sonora. Peccato che non esistesse quella colonna sonora, perché la colonna sonora di quel film era fatta da tutti i pezzi di repertorio, quindi non esisteva un compositore che avesse scritto la colonna sonora del film. Eppure l'avevano votata talmente in tanti, senza averla ascoltata evidentemente, e senza essersi posti il problema evidentemente, che si è stato candidato in una colonna sonora inesistente. Capite che figura di M è clamorosa, capite che una roba del genere toglie credibilità? E anche l'Accademia del Cinema, se vuole mantenere, su tante cose già la persa, ma se vuole mantenere una credibilità, o accresci la credibilità, deve dar retta, ascoltare almeno le voci, perché quando la cosa te la dice Vito Lorè, chi se ne frega? Quando te la dice Vito Lorè, Mario Rossi e Giulio Bianchi, chi se ne frega? Ma quando una cosa te la dice tutta una categoria fatta da enormi talenti e grandi professionisti che hanno scritto e stanno scrivendo la storia di questa professione, se non li ascolti, secondo me, non fai un buon servizio. Non fai un buon servizio all'arte, non fai un buon servizio al cinema, non fai un buon servizio all'industria del cinema e non fai un buon servizio neanche alla tua credibilità. Cosa succederà dopo questo ritiro di Piersanti? Che veramente, se non può fare qualcosa con questa mossa, si è guadagnato 100 punti di stima da parte mia. Potrebbe finire tutto tra luce e vino, quindi finirà in nulla, lui si ritornerà dalla candidatura e la candidatura sarà spartirendo altri 4, oppure forse potrebbe essere una volta buona che qualcuno dà un po' ascolto alla categoria. Non so cosa faranno gli altri compositori in Lizza, non so se si ritireranno anche loro, mi sembra improbabile. Io stesso non so se lo farei, devo dirlo per onestà intellettuale, insomma, se fossi in candidatura, ritirarmi e toglimi la possibilità di vincere un David, non so se lo farei, devo dire la verità, insomma, ecco. Bene, scrivete nei commenti cosa ne pensate voi di questo gesto che ha fatto Franco Piersanti, a cui ribadisco va tutta la mia stima. Scrivete anche, secondo la vostra opinione, cosa dovrebbero fare gli altri compositori, se seguire l'esempio di Piersanti oppure ignorarlo. e noi ci vediamo alla prossima puntata delle colonne d'Ercole. Non mancate!